27 agosto Giuseppe disse ai suoi fratelli vi prego avvicinatevi a me quelli si avvicinarono ed egli disse io sono Giuseppe vostro fratello Genesi 45 4 avvicinati al Signore Giuseppe era stato venduto dai suoi fratelli e a motivo di questo subì dolorose circostanze dopo molti anni però Giuseppe venne levato alla carica di vicere d'Egitto e a lui venne affidato il controllo di tutti i beni accumulati prima della carestia i fratelli di Giuseppe provati da tale carestia decisero di andare a comprare del grano da quell'uomo che non sapevano essere loro fratello Giuseppe era per loro una figura ancora sconosciuta ma presto scoprirono che egli era avvicinabile Giuseppe potevano accostarsi a lui il quale non li avrebbe scacciati nonostante il male che gli avevano fatto scoprirono inoltre che Giuseppe desiderava farsi da loro conoscere, rivelarsi e garantirgli tutto il suo amore infine realizzarono che lo scopo di Giuseppe era far loro del bene più di quanto si aspettavano Caro lettore oggi puoi avvicinarti a Cristo nonostante il tuo peccato se lo confessi a lui egli non te lo rinfaccerà anzi scoprirai che Gesù vuole farsi conoscere da te desidera mostrarti il suo infinito amore colui che ha offerto la sua vita sulla croce al posto tuo vuole farti del bene non indugiare, avvicinati a lui non indugiare, avvicinati a lui